Ciao, un caloroso saluto da Giustino, da Berlino. Sono in un centro Stainways, in Sons, una grande sala con due pianoforti D274. Mi cimenterò in qualche brano sia di regina italiana che internazionale per divertirmi un po' a passare un paio d'ore così piacevolmente con la musica, insieme a voi spero. Ringrazio particolare tre persone, Annalisa De Rossi per avermi consigliato il posto qua a Berlino, Andrea Lazzarini per l'energia e l'entusiasmo per la mia ripresa nella musica e Carlo Perotti per la fornitura gentile degli spartiti. Quindi vi saluto di nuovo e vi auguro buon ascolto e grazie ancora del supporto. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.